Il risultato di calcio di piazza e il risultato di Draghi. Cavalieri TLR prende la vincita. Wittmeier, come funziona la scala di 1.10 di off-road, Carpet Success, in Germania. Un altro driver va a X-Ray, Riccardo Monteiro, da Portugali. Greiner sarà 1, sulle macchine Capricorni. In Denmark, Nicolai Lamberts, che si unisce come team di lavoro. Salemi, in Italia, ha preparato il suo Capricorni 804, 1.8 di scala di stagione. Tutto allumeno e bellissimo fatto. Si sembra che le nuove Kayosho MP10 set up sheets hanno un nuovo camber measurement con la lunghezza dei camber links. Questi sono i VPPRO TurboTrux Evo 1.10 scale buggy tires. J-Concepts Creeper Crowler Body. Faccio i VPPRO 352, 1.10 scale. Hoviato con la lunghezza dei camberi. Hoviato con i VPPRO TurboTrux Evo 2.11. Hoviato con i VPPRO TurboTrux Evo 1.10 capricorni 804, 1.10 capricorni 804, 1.10 capricorni 804. Hoviato con i VPPRO TurboTrux Evo 1.50. Grazie a tutti